buongiorno a tutti la cade oggi di oggi ci porta indietro di cento due anni al 30 ottobre 1922 al primo incontro tra benito mussolini e vittorio emanuele terzo alle 11 del mattino al quirinale il duce dei fascisti riceveva dal re l'incarico di formare il nuovo governo mussolini aveva 39 anni il più giovane primo ministro della storia del regno pronunciò una frase effetto che rimarrà famosa per tutto il ventennio maesta vi porto l'italia di vittorio veneto il giorno prima il 29 ottobre la tarda mattinata dino grandi aveva telefonato a mussolini dal quirinale per comunicargli che il re aveva deciso di affidare l'incarico di costituire il nuovo gabinetto e che perciò doveva recarsi al più presto a roma ma mussolini pretese un telegramma ufficiale dall'aiutante di capo di campo del re il generale arturo cittadini nel quale veniva confermata quella comunicazione e mussolini rassicurò che appena avrebbe ricevuto il telegramma sarebbe partito subito da milano in direzione roma con qualunque mezzo anche in aeroplano disse a grandi il telegramma intanto arrivò poco dopo sua ammestà il re la prega di recarsi subito a roma desiderando offrirle l'incarico di formare il ministero ma mussolini non partì subito a nero plano come aveva promesso non partì subito nemmeno in treno rifiutando perfino un treno speciale predisposto dal prefetto di milano alfredo lusignoli e che sarebbe partito alle ore 15 ma decise di prendere tempo per varare un'edizione straordinaria del suo giornale del popolo d'italia con l'annuncio della vittoria mussolini la grande giornalista conosceva il potere della stampa come dimostrò per i prossimi vent'anni del resto preferì poi viaggiare in vagone a letto con un treno normale il direttissimo 17 che partiva dalla stazione centrale di milano alle 20 e 30 per giungere a roma secondo l'orario alle 9 e 10 dell'indomani mattina e salendo sul treno al capo stazione disse voglio partire in perfetto orario d'ora in poi ogni cosa deve camminare con perfezione nonostante questa premessa arrivò a roma parecchio ritardo anche per via delle fermate forzate che fascisti gli imponevano durante il tragitto tra poche ore l'italia non avrà soltanto un ministero avrà un governo prometteva mussolini alle camicie nere mentre si affacciava dal finestrino del treno il primo colloquio con il re dopo la nomina durò un'ora e mezzo e a mezzogiorno si congedò per poi tornare al Quirinale la sera verso le 19 e 30 con la lista dei ministri a quel punto solo a quel punto in quel momento le truppe fasciste poterono entrare a roma per sfilare in corteo davanti al re nella famosa marcia sul roma non mancarono scontri non mancarono morti e non mancarono feriti in particolare ci fu una sparatoria da far west a porta san lorenzo e in via tiburtina in quello che fu ufficialmente il terzo giorno fascista che di fatto era il primo ci furono 13 morti tutti trasportati subito la cappella mortuaria del campo verano e tumulati in tutta fretta per evitare che funerali pubblici potessero causare ovviamente altri disordini e altri morti intanto la sera del 30 il re aveva la lista dei ministri del primo governo mussolini che comprendeva cinque fascisti mussolini oltre alla carica di presidente del consiglio assumeva anche il ministero dell'interno e quello degli esteri stefani le finanze oviglio la giustizia e cesare maria de vecchia il ministero per l'assistenza e le pensioni giurati alle terre liberate poi tre indipendenti filofascisti il filosofo giovanni gentile all'istruzione il maresciallo armando diaz il maresciallo della vittoria nella grande guerra ovviamente al ministero della guerra e l'amiraglio town di revel alla marina il nazionalista federzoni alle colonie e due popolari tangorra al tesoro e cavazzoni al lavoro il re accettò in blocco i ministri del nuovo governo e anche i giornali a parte il corriere della sera di luigi albertini che infatti dopo la decisione del re di nominare mussolini capo del governo non uscì per la prima volta nella storia del corriere della sera il portone di via solferino numero 28 fu sbarrato per 24 ore di fila e gli squadristi per dimostrare ormai evidentemente la loro onnipotenza passeggiavano armati davanti alla sede del primo giornale d'italia quello che era diventato il primo giornale d'italia grazie alla direzione del liberale luigi albertini che poi nel novembre del 25 appunto resistete per quasi tre anni ma poi nel novembre del 25 anzi per più di tre anni tre anni un mese poi novembre del 25 dovete lasciare la direzione appunto per volere di mussolini e dalla proprietà stessa del corriere alla quale era stato reso impossibile vivere se non completamente allineata alla propaganda fascista ma un altro giornale e ovviamente non tollerava i fascisti al Quirinale dal re a prendere il potere era l'avanti sempre a Milano e sempre a Milano davanti alla sede del giornale fascista se l'ha verificato uno scontro tra la guardia regia e gli squadristi che provocò nove feriti sei guardie e tre civili un infermiere due donne erano stati gli squadristi ad attaccare la guardia regia una guardia regia che era ormai l'unico corpo disponibile a utilizzare la forza la forza contro le squadre fasciste ma durò poco perché presto quasi tutta l'italia si svegliò fascista come già citati i giornali che capirono presto come si campa in italia la grande maggioranza di essi erano favorevoli alla nuova presidenza Mussolini erano le loro pagine dell'edizione del pomeriggio erano piene di esaltazioni al re e anche quelle dell'indomani mattina erano piene di esaltazioni al re che aveva evitato un altro spargimento di sangue rifiutandosi di firmare lo stato d'assedio ovvero l'impiego dell'esercito che avrebbe dovuto fermare i fascisti diretti verso Roma che gli propose la notte del 27 ottobre l'ex presidente del consiglio Luigi Facta alla presidenza Mussolini dei fascisti era favorevole il messaggero per il quale il re aveva reso un grande servizio alla nazione di cui era degnamente l'augusto capo quell'augusto più tardi diventerà Mussolini per la gazzetta del popolo il re nominando Mussolini aveva salvato l'Italia da una grave crisi storica per il giornale di Roma la vittoria del fascismo era opera delle forze sane della nazione che marciavano per conquistare per sempre l'Italia per l'idea nazionale invece organo dei nazionalisti il ministero Mussolini era il ministero che l'Italia vittoriosa dalla grande guerra si aspettava la chiusura di un cerchio e così via intanto quel 30 ottobre 1922 si avviava alla conclusione si concludeva quella giornata dopo l'incontro col re Mussolini sfidò per Roma la testa delle sue camicie nere e Vittorio Emanuele III osservava dal balcone piazza del popolo l'altare della patria la piazza del Quirinale in 70.000 salutavano il nuovo duce che a fine giornata visibilmente stanco si rifugiò nella sua prima abitazione romana in via Rasella nel palazzo Titoni nell'appartamento del barone Fassini e termino così quella giornata quel 30 ottobre 1922 ed iniziò così il lungo ventennio del fascismo e quindi